Ieri c'erano quattro consultori, uno per ogni comune della fascia penninica, oggi a Costacciaro, presso il centro salute di Piazza Garibaldi, è stato inaugurato l'unico che dal 12 febbraio sarà il punto di riferimento dei comuni di Scheggia, Costacciaro, Sigillo e Fossato di Vico. Non un depotenziamento del servizio, ha detto il direttore sanitario dell'Asla 1, Diamante Pacchiarini, piuttosto l'esempio di come il buonsenso degli amministratori locali ha saputo guardare più in là di una targhetta appesa al di fuori di un ambulatorio sotto casa. Già perché i numeri dell'utenza non giustificavano l'esistenza di più sedi, mentre quella di Costacciaro, accentrando il servizio e dunque gli utenti, in virtù proprio dei numeri che in potenza potrà avere, potrà dare un servizio migliore. Portiamo un servizio che noi riteniamo essenziale vicino ai cittadini e quindi aggiungiamo al servizio di territorio presente a Gualdotadino e a Gubbio un servizio per la fascia penninica che esisteva già nel passato, che era stato interrotto e che ritorna nel territorio. Su questo si sono impegnate tutte le amministrazioni, le quattro amministrazioni del territorio. La scelta dell'Asla è poi andata al centro salute di Costacciaro perché dispone di ambienti adeguati e dispone di attrezzature perché il nostro centro salute ha ottenuto una donazione alcuni anni fa da parte dell'Associazione Daniele Chianelli, la donazione di un ecografo e quindi l'ecografo sarà uno strumento importante per integrare le visite del consultorio. Aperto ogni secondo e quarto mercoledì del mese dalle 9 alle 13 con la presenza fissa di un ginecologo, il dottor Fabra ed un'ostetrica, il consultorio offre servizi rivolti non solo alle gestanti ma alla coppia e alle giovani che sempre più in età adolescenziale vivono attivamente la loro sessualità. Rifacciamo un po' un'organizzazione dell'attività consultoriale che permetterà ai cittadini della fascia di avere gli stessi servizi di cui usufruiscono i cittadini di Gubbio e di Gualdo e ovviamente di tutta la nostra regione rispetto a una serie di attività che sono e la gravidanza fisiologica seguita in tutte le sue tappe e nelle fasi successive del perperio ma soprattutto una serie di altre attività che sono per esempio lo screening, il corretto controllo nelle fasce di età molto ampie della popolazione per la prevenzione dei tumori del collo e dell'utero sono una serie di attività che riguardano anche la sessologia il consultorio per definizione lo pensiamo aperto alle donne ma in realtà è aperto anche agli uomini, ai ragazzi speriamo insomma a una fascia d'età che può essere molto più ampia di come immaginiamo pensando solo alla gravidanza l'altra cosa che credo vale la pena di un po' evidenziare ai nostri utenti è che siamo anche a disposizione per portare il consultorio anche a domicilio ci possono essere problemi ginecologici in fasce di età di disabilità o di anzianità nelle quali spostare la persona è più complicato quindi l'idea è raggiungere anche a domicilio